Buonasera, siamo un comitato di cittadini della nuova lottizzazione di via Vespucci. Abitiamo in via Pigafetta e via Vottego e noi siamo costretti a denunciare lo stato di degrado e di abbandono delle strade, il verde pubblico del nostro quartiere. Abbiamo rivolto domande anche ufficiali all'amministrazione comunale, ai soggetti coinvolti, lottizzanti, costruttori, ma siamo di fronte a uno scaricabarile continuo da parte di tutti questi soggetti. Ci sono stati numerosi incidenti, sia con le macchine, a causa dello stato delle strade e ieri il figlio di un lottizzante è caduto in bicicletta, si è ferita in volto e è dovuto anche andare pronto sul corso. Per cui chiediamo all'amministrazione comunale prima di tutto e d'altra parte il nostro interlocutore di intervenire, di darci dei tempi certi, un calendario, almeno delle risposte per avere più sicurezza. Noi d'altra parte viviamo qui, abbiamo fatto sacrifici per acquistare la casa, paghiamo regolarmente le tasse per cui siamo a chiedere delle risposte.